Musica Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli Radio Surgery Center di Agropoli Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di TV Molise questa mattina in prima pagina sui quotidiani nazionali, il Consiglio dei Ministri di ieri in cui è stato approvato il DEF è stato istituito anche lo Stato d'emergenza per quanto riguarda la questione ai migranti e sono state adottate delle misure nei confronti dei vandali che imbrattano le opere d'arte sui quotidiani locali invece si parla ancora di elezioni regionali ma anche dell'inchiesta della Guardia di Finanza sui contributi percepiti dagli operatori del 118 e cominciamo proprio dalle notizie locali, Fausto Scarpitti, allenatore di Fuzzall e vincitore della Coppa Italia è stato premiato dall'amministrazione comunale di Sernia Una Coppa che sa di Sernia non solo perché a vincerla è stato un isernino doc ma anche perché è dedicata a tutti quei giovani isernini che con sudore e dedizione cercano di realizzare i propri sogni Fausto Scarpitti, allenatore della San Giuseppe, squadra campana che ha vinto l'ultima Coppa Italia di Fuzzall ha ricevuto una targa per la prestigiosa vittoria ottenuta non un formale riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale ma la volontà di fare del coach un esempio per le nuove generazioni per questo motivo nei prossimi mesi si terrà un incontro pubblico con i giovani in cui Scarpitti racconterà la sua esperienza e soprattutto i suoi successi Sì, è una targa per Fausto Scarpitti, per l'impegno, la dedizione, la passione che ha messo nello sport è riuscito a trasformare una passione in un lavoro e alla fine con tanti sacrifici i risultati sono arrivati un modo per essere orgoglioso tutti i miei sernini ma anche un esempio per i giovani per tutti coloro che possano affrontare il lavoro sì con fatica sì con passione ma alla fine credendo che i risultati possano arrivare Partito da Isernia dove ha allenato le locali squadre di Fuzzall Scarpitti ancora oggi ha un legame indissolubile con la sua terra Sono un isernino doc, sono nato e cresciuto qui Il centro delle mie attività e i miei figli sono Isernia quindi ha un valore particolare essere premiato qui ad Isernia e ne sono veramente felice Per fortuna ci sono molti sernini e più in generale molisani che stanno facendo bene in altri ambiti sia sportivi che non quindi penso che storie come la mia, come quelle di Antimo Martino tanto per citarne alcuni, un altro sono quelle che danno forza anche a chi crede nello sport crede nel potersi fare una strada con impegno e sacrificio quindi mi auguro di essere un buon esempio in questo senso Alzare quella Coppa è il momento più alto e più emozionante della sua carriera da sportivo È stata un'emozione importante perché comunque io ho fatto la gavetta sono come hai detto tu, sono partito da Isernia, dalla Serie C regionale allenando e giocando con gli amici trovarmi al Palavesuvio con 3-4 mila persone a seguire una finale di Coppa che fino a qualche anno fa andavo insieme agli amici a vedere anch'io è stata un'emozione grande perché ho rivisto, ho rivissuto i momenti principali della mia carriera mi sono goduto ogni singola immagine di quella serata e la porto con me Passiamo alla lettura dei titoli delle ultime ore cominciamo da quelli online nel quotidiano del Molise e le regionali nel centro-destra c'è il veto di Cavaliere sulla candidatura di Roberti venerdì nuovo incontro della coalizione Sernia intanto giovedì sarà presentata la lista del Molise che vogliamo che raccoglie il testimone da Orgoglio Molise veti incrociati, divisioni, ultimatum e viaggi della speranza a Roma le coalizioni sono ancora impegnate in lotte intestine e resta lontano il traguardo della scelta del miglior candidato possibile per la presidenza della regione su Molise Oggi News il venerdì degli incappucciati e Sernia il venerdì santo il giorno della processione del Cristo morto e degli incappucciati i fedeli che indossano una tunica bianca con un cappuccio dello stesso colore e un cordone rosso alla cintola andiamo sul cartaceo, il nuovo Molise l'apertura sulla sanità tra fuoco e fiamme gialle l'inchiesta della Guardia di Finanza sui compensi agli operatori del 118 Benafro nel bracciale elettorale brucia tra le polemiche del sindaco contro Toma e dell'opposizione che gli ricorda Toma è amico tuo e poi la foto, l'attore questa sera sarà nella città del padre Castellitto Zorro Molisano nella sua Campobasso la chiusura della stagione del Teatro Savoia con l'adattamento di un romanzo della moglie Margaret Mazzantini e poi il comune di Campobasso Maglianera dei Capologhi per il pagamento delle fatture Campobasso, cattivo pagatore in cattiva compagnia con l'Aquila, Potenza, Napoli, Roma e Palermo ma anche Spidalieri, il segno dell'acqua inciso su vinile il disco del cantautore neurologo molisano approfondiamo la lettura di alcuni titoli del nuovo Molise quello dedicato alla sanità e quindi l'inchiesta della Guardia di Finanza sui compensi agli operatori del 118 Benafro che finisce nel bracciale elettorale e brucia tra le polemiche del sindaco contro Toma e dell'opposizione che gli ricorda Toma è amico tuo sanità tra fuoco e fiamme gialle il titolo che gli dedica Nuovo Molise questa mattina e poi il comune più generoso del Molise Longano porta bandiera delle donazioni di organi e tessuti andiamo a leggere la prima pagina di primo piano l'apertura è sulle regionali si allarga la rosa del centro-sinistra i verdi puntano sul primo cittadino di Castel del Giudice Lino Gentile decisivo il vertice 5 Stelle Conte Molise domani porta al tavolo il nome del giornalista Domenico Iannacone discontinuità con la vecchia politica e credibilità lui riaccende la speranza e poi il primo sì all'accordo con i medici spiragli per il 118 di Benafro attesa per il via libera del MEF intanto il sindaco reitera la diffida e poi ancora la fonderia Marinelli l'arte campanaria di Agnone verso il riconoscimento UNESCO il ministero presenta ufficialmente la candidatura a Parigi ci spostiamo nelle pagine interne per leggere quella dedicata a Campobasso due mesi al Corpus Domini la macchina organizzativa si mette in movimento confermate le due location per i concerti passa la proposta PD di un'area food tutta molisana e poi parte pure il totocantanti Fabri Fibra e Paola Turci e Nomi Caldi avviate le trattative con gli agenti degli artisti e il rapper in pole per lo spettacolo finale ci spostiamo sulla pagina dedicata ad Isernia centro Alzheimer le proposte alternative per attivare il servizio ieri la prima riunione operativa dell'associazione non ti scordar di me nella sede del caffè in via Umbria il sindaco Castrataro individua un paio di location in sostituzione di Palazzo dei Bagis domani le sottoporrà al vaglio dell'Asrem e poi riparte la vigilanza rotturna più sicurezza per la movida cittadina ma anche riapre il museo del Paleolitico venerdì sarà visitabile fino a sera la pagina dedicata a Venafro de medicalizzazione 118 buono che dice è solo la punta dell'iceberg bordate anche a Ricci la sua proposta un tentativo puerile di porre rimedio a danni di totale assenza l'attacco alle istituzioni un silenzio che riflette l'inerzia di chi non ha mosso un dito quando il nostro ospedale è stato smantellato e poi le amministrative liste in dirittura d'arrivo ecco tutti i nomi dei papabili candidati l'uscente incassa l'appoggio della sua maggioranza domani i bianchi presenta il programma ci spostiamo sulla pagina dedicata a Termo il progetto del tunnel è risorto a Palazzo Spada i giudici del Consiglio di Stato ribartano la sentenza del Tar il comitato promotore non aveva legittimità di agire ci spostiamo adesso sui titoli nazionali cominciamo dal Corriere della Sera l'apertura è sul DEF 3 miliardi per il cuneo fiscale la trattativa sui vertici delle partecipate il capogruppo leghista Molinari che ha detto bizzarro che a dare indicazioni sia un solo partito il via libera al DEF tensione nel governo sulle nomine migranti stato di emergenza nazionale ma anche il partito unico il terzo polo lo strappo poi le smentite veleni liti accuse tra Calenda e Renzi e la crisi del terzo polo è l'intervista che trovate questa mattina sul Corriere della Sera al leader di azione se siamo a divorzio ha detto chiedetelo a Matteo io lavoro e lui frena e poi il caso delle carte diffuse su una chat dall'Egitto a Siull i paesi amici spiati nei file americani non si ferma la fuga di notizie dopo la diffusione dei documenti riservati dell'intelligence statunitense trapelati in rete a preoccupare la Casa Bianca e ora l'impatto che i leaks potrebbero avere sui rapporti con gli alleati alcuni dei quali sono stati spiati dal Pentagono dall'Egitto a Siull la lista è lunga a proposito di Oriente Taiwan la Cina è irresponsabile ha detto la risposta USA a Pechino maxi manovre nel Pacifico la Cina è irresponsabile accusa Tsai la presidente di Taiwan le manovre militari di Pechino creano instabilità e se i jet cinesi hanno smesso di volare sull'isola la tensione resta alta per l'addestramento di truppe voluto dagli Stati Uniti nelle Filippine andiamo adesso a vedere la prima pagina della Repubblica l'apertura è di nuovo sulla finanza pubblica un DEF da 3 soldi il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale per i redditi più bassi e azzera così le risorse per le pensioni e la flat tax PIL a più 1% ma il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita minore e un aumento della disoccupazione sulle nomine Lega contro Meloni Pigliatutto e poi i migranti varati stato d'emergenza e protezione ridotta il governo Meloni approva il DEF il documento di economia e finanza e usa i 3 miliardi di maggior deficit per tagliare il culo fiscale ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi non ci sono più risorse per pensioni e flat tax migranti intanto varato lo stato di emergenza ci spostiamo sulla prima pagina del fatto quotidiano 4,5 miliardi di vitalizi paghi 1 in taschi 14 casta continua dal 1981 solo 320 milioni di contributi i dati della Camera segni per tutti inclusi i condannati e chi ha fatto un solo giorno Pivetti neo-sessantenne è l'ultima arrivata e la sentenza della Cassazione spese pazze in Lombardia Bossi Junior e altri 10 prescritti ma il processo civile per far restituire il mallop andiamo a vedere le notizie economiche sulle 24 ore ovviamente l'apertura è d'obbligo sul DEF 3 miliardi per il cuneo fiscale volano gli interessi sul debito supereranno i 100 miliardi nel 2026 Meloni che ha detto nella finanziaria ha misure adeguate contro il calo demografico e poi la piattaforma Alibaba che rilancia la sfida della Cina a chat GBT ma anche il sabato questo sabato la Germania spegne il nucleare energia decisione che divide il governo tedesco continuiamo la lettura dei titoli nazionali e lo facciamo con la prima pagina del mattino misure contro l'inflazione l'apertura meno oneri sugli stipendi e interventi per fermare il calo demografico sud spinta a turismo migranti c'è lo stato d'emergenza centri di rimpatrio in ogni regione il sì a un commissario sul taglio alto invece il Napoli per la storia questa una notte da campioni la Champions all'amiazza l'andata dei quarti con il Milan alle ore 21 e Spalletti che ha detto siamo forti anche senza Osimèn andiamo a vedere la prima pagina della stampa nomine Meloni impone cingolani superate le resistenze di Forza Italia e Lega sulla D di Leonardo più vicina la presidenza Enel per Scaroni il via libera al DEF taglio di 3 miliardi alcune fiscali per erediti bassi sfida all'UE sul deficit e poi vediamo le fotonotizie da un lato l'accordo dell'Ungheria su gas nucleare Orban sta con Putin e dall'altro i documenti rubati agli USA e i piani egiziani al Sisi arma Mosca continuiamo la nostra lettura con la prima pagina dell'avvenire ma è vera emergenza si chiede questa mattina il giornale dal governo sei mesi di norme speciali sui migranti per evitare il collasso dei centri i dubbi delle associazioni nel Consiglio dei Ministri varato il DEF crescita all'1% 3 miliardi per tagliare il cuneo fiscale Meloni vuole fondi per la natalità e poi Herat ristoranti vietati alle donne in Afghanistan il braccio di ferro dei Talibani con l'ONU che interrompe le attività umanitarie andiamo a vedere la prima pagina del giornale i provvedimenti del governo la svolta di Georgia migranti sei mesi di stato d'emergenza e nomina di un commissario approvato il DEF 3 miliardi di euro per tagliare il cuneo fiscale maximulte per i vandali che deturpano monumenti ed opere d'arte poi vediamo la foto dopo l'uccisione del runner deportazioni e spray urticante scatta la caccia all'orso in Trentino la prima pagina del manifesto allarme falso il titolo di apertura in difficoltà nel gestire gli sbacchi dei migranti il governo dichiara lo stato d'emergenza per sei mesi ma è solo una misura spot per nascondere l'incapacità nel trovare soluzioni a una crisi che è solo umanitaria accordo nella maggioranza giro di vite sulla protezione speciale e poi anche la Meloni ingorda maxi rissa sulle nomine Lega e Forza Italia contro la Premier che vuole imporre ai suoi addi a Leonardo ed è nel trattativa nella notte ci spostiamo sulla prima pagina di Libero ecco il modello Schlein gli eco rimbambiti il PD dice no agli inceneritori alle multe a chi imbratta opere d'arte intanto il verde bonelli delira non ci votano colpa del cattolicesimo ma anche in arrivo aiuti per la maternità il via al def spunta il tesoretto 3 miliardi per tagliare le tasse e poi dichiarato lo stato d'emergenza la protesta dem sei mesi di poteri speciali per gestire l'allarme degli sbarchi vediamo gli aggiornamenti sportivi sulla gazzetta dello sport ovviamente l'apertura è sull'Inter che ha battuto il Benfica 2 a 0 semifinale vicina Inter da sogno capolavoro nerazzurro in Champions Barella Lukaku in gol a Lisbona Inzaghi che ha detto non è una rivincita ritorno il 19 a Milano il City domina il Bayern 3 a 0 la partita perfetta l'analisi di Simone e poi ore 21 Milan-Napoli mai visto bellezze a San Siro che brividi Leao Quara e altri duelli show nella sfida tra chi gioca più l'attacco Pioli con i fedelissimi Ossimen resta fuori queste le notizie di questa mattina grazie per aver seguito la rassegna stampa di TV questa rassegna stampa è offerta da ICM Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli Radio Surgery Center di Agropoli Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi mercoledì 12 aprile la giornata sarà all'insegna della stabilità atmosferica possibili passaggi nuvolosi nel pomeriggio ma senza fenomeni Temperature in rialzo specie nei valori massimi Venti sostenuti dai quadranti sud-occidentali Mare quasi calmo Temperature Campobasso minima 4 massima 17 Isernia minima 6 massima 17 Termoli minima 11 massima 18 Venafro minima 6 massima 20 Previsioni per domani giovedì 13 aprile L'aria più umida tenderà a valicare la barriera anticiclonica generando instabilità pomeridiana sui settori occidentali con la possibilità di temporali nella parte centrale della giornata Migliore la situazione sulla restante regione e sole lungo la costa Venti dai quadranti sud-occidentali Mare poco mosso ma con aumento del motondoso Temperature Campobasso minima 6 massima 16 Isernia minima 8 massima 16 Termoli minima 12 massima 21 Venafro minima 9 massima 19 Benvenuti all'oroscopo di oggi mercoledì 12 aprile Ariete Il cielo vi spinge a chiarimenti nella coppia quindi non rimandate le discussioni D'altronde ora le vacanze sono finite ed è il caso di ripartire alla grande Sul lavoro c'è un po' di tensione nell'aria ma nulla di risolvibile Diplomazia Toro Con queste stelle torna finalmente la pace nella vita di coppia Potrete chiarirvi di trovare unione e passione Cercate di vivere l'amore con più leggerezza Per quanto riguarda il lavoro arrivano nuove opportunità Gemelli Potreste sentirvi lontani dalla persona amata ma niente paura Con il tempo le distanze si accorceranno Ritroverete fiducia ed entusiasmo nel prossimo Sul lavoro siete in una fase un po' statica Siete stanchi della solita routine e vorreste nuove opportunità di successo Cancro Dovrete fare una scelta in amore entro la fine del mese e quindi iniziate a pensare bene a quello che desiderate Sul lavoro arrivano nuove collaborazioni che saranno cruciali per il futuro Magari potrete ripartire alla grande come non vi capitava da tempo Leone Tutte le nuove storie d'amore sono importanti ma anche le coppie stabili possono iniziare a fare progetti per il futuro Anche sul lavoro bisogna smettere di pensare e cominciare ad agire Vergine Bisogna stare attenti in amore perché Venere e Giove sono contrari Sul lavoro non è un momento rosio e vi toccherà fare buon viso a cattivo gioco Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà prima del previsto Bilancia Non perdete tempo ad arrabbiarvi con le persone non ne vale la pena Per quanto riguarda il lavoro siete in una fase di incertezza che però si risolverà presto Non fatevi prendere dall'ansia se qualcosa non va come vorreste Scorpione La giornata è ideale per i sentimenti quindi sfruttatela più che potete Al lavoro ci saranno incontri importanti e anche dialoghi con capi che potranno dare tanto Sagittario In amore la cosa migliore da fare è stare bene e non soffrire quindi lasciate alle spalle il passato e apritevi alle novità Sul lavoro lasciate perdere i colleghi frustrati Capricorno Avete una grande voglia di ributtarvi in pista dopo essere usciti da una relazione tossica Sul lavoro iniziate invece a guardarvi intorno e fare nuovi progetti Il cambiamento non è mai una sconfitta anzi un'opportunità Acquario Oggi bisogna che stiate attenti ai nuovi incontri d'amore soprattutto se siete già in una relazione Al lavoro bisogna fare qualche sacrificio ma ce la farete Pesci Avete la luna opposta in amore quindi state attenti Per quanto riguarda il lavoro ci sono ritardi ma tra qualche settimana ci sarà una svolta decisiva Fatevi trovare pronti e non aspettate l'ultimo minuto